con fede ortiz autori quattro gol uno più bello dell'altro una grande serata sì per fortuna la partita l'abbiamo lasciato a casa oggi era una bella sfida visto che non che ci mancava il capitano brusa e mastro non si è potuto allenare bene in questa settimana ma alla fine l'abbiamo portata a casa e siamo contenti no un primo tempo in difficoltà poi siete poi emersa tutta la vostra qualità la vostra voglia di vincere sì certo un po all'inizio sapevamo che loro hanno un ritmo che partono a canone un ritmo abbastanza alto noi purtroppo siamo entrati un po mole in pista però piano piano niente siamo riusciti a portarla avanti se non sbaglio il segnato 18 gol in queste partite di coppa italia se il capo cannoniere come si suol dire il salto di categoria non si sente io sono troppo fiducioso del lavoro che faccio e niente sono pronto per per questa coppa italia soprattutto per il campionato che è l'obiettivo di questa società dove può arrivare questa azzurra guarda lavorando sicuramente si arriva e all'obiettivo finale sappiamo che lunga quindi bisogna lavorare in questa coppa italia perché siamo qua per un obiettivo che salirena uno la botta al naso non ti ha fermato cosa è successo niente quello che succede in partita no un contrasto lì con un avversario però niente di particolare se vediamo un po di ghiaccio comunque è servito per vincere quindi sono contento alla fine grazie